Ci troviamo qui davanti al celebre Muretto di Alassio, che è un monumento all'amore, Alassio città degli innamorati, di fianco alla cassetta dove vengono imbucate le lettere d'amore e vicino alla piastrella che celebra il gemellaggio con Ispra e con l'associazione Amici di Mario Berrino del premio di Ispra. È per noi un onore e un piacere celebrare la sedicesima edizione di questo premio importantissimo e in questa edizione in particolare vogliamo ricordare Mario Berrino, un grande artista che non è più tra noi, che ha partecipato di persona a molte edizioni passate di questa manifestazione e che quest'anno appunto raggiunge la sua sedicesima edizione. Siamo vicini al comune di Ispra con il quale abbiamo un gemellaggio culturale e nel segno dell'amore.